Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta tra i cioccolati. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 40 minuti. Gli ingredienti sono biscotti, burro, latte, panna, cioccolato fondente, cioccolato al latte, cioccolato bianco e tre bustine di torta gel. Andiamo il via alla ricetta. Mettere nel boccale i biscotti. Chiudiamo con il coperchio. 10 secondi. Velocità a 10. Unire il burro. 30 secondi. Velocità a 10. Spoderare una tortiera con carta da forno. Mettere il composto nella tortiera e livellare. Dopo averlo livellato, riporlo in frigo. Prepariamo il primo strato al cioccolato fondente. Mettere nel boccale il cioccolato fondente. Tritarlo per 6 secondi a velocità 7. Uniamo adesso il latte. e la palla e una bustina di torta gel. Chiudiamo con il coperchio. 7 minuti. 90 gradi. Velocità 5. prendere la tortiera dal frigo e versare lo strato di cioccolato fondente ancora bollente direttamente. e rimettere in frigo. Lavare e asciugare il boccale. Adesso mettere nel boccale il cioccolato bianco. Chiudere con il coperchio. e tritare per 6 secondi a velocità 7. Unire adesso il latte. la palla e una bustina di torta gel. chiudere con il coperchio. 7 minuti. 90 gradi. Velocità 5. E' pronto il secondo strato bianco. Dopo aver preso la tortiera dal frigo, versare il cioccolato bianco. Andare a riporre adesso il tutto in frigo. Dopo aver lavato e asciugato il boccale, andiamo a preparare il terzo strato con il cioccolato al latte. Mettiamo all'interno del boccale il cioccolato al latte. e tritiamo col coperchio e tritiamo per 6 secondi a velocità 7. Uniamo adesso il latte e la panna. la bustina di torta gel. Chiudiamo con il coperchio. 7 minuti. 90 gradi. Velocità 5. Prendere la tortiera dal frigo. e andare a versare il composto di cioccolato al latte. riporla in frigo per almeno 2 ore. Torta ai 3 cioccolati. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.